Musica Con Monica Adreon, capitana dell'Indipendiente Ivrea, la domenica purtroppo è andata male, avete perso Speranza Grate 2-0, domenica però arriva un avversario molto tosto, ovvero il Genoa. Sì, domenica siamo uscite dal campo un po' deluse, però alla fine ripensandoci è stata una bella prestazione, siamo state sfortunate, è stata un po' determinata la partita anche dall'episodio dell'espulsione, abbiamo giocato per più di un tempo in dieci e questo non ci ha aiutato a portare a casa il risultato, però abbiamo fatto una buona partita, ci siamo comportate bene e continuiamo a portare tutto quello che di buono si è visto in campo anche questa settimana in allenamento per migliorarci e affrontare al meglio il Genova perché è una partita importante per i punti salvezza. Cosa che dovrete fare domenica per cercare di avere i tre punti al di là di segnare? Diciamo che segnare in realtà il punto focale è la cosa più importante, però in realtà dobbiamo giocare come sappiamo giocare noi la palla, stare concentrate, entrare con la testa in campo, lottare su tutti i palloni, non tirarci mai indietro e anche se incontriamo una difficoltà, continuare a lottare e a cercare di mettere quella palla dentro perché è fondamentale e non ce la facciamo. Vedendo la classifica e soprattutto vedendo i risultati, c'è un problema di voi di personalità tra fuori casa e gara in casa? Visto che fuori casa quattro partite, un pareggio, tre sconfitte, nove gol subiti e tre fatti. In casa il ruolino va meglio? Non so se sia una questione di concentrazione, di campo, di testa oppure semplicemente abbiamo avuto più fortuna, abbiamo incontrato delle squadre più abbordabili in casa fino ad ora e comunque sicuramente nel nostro campo noi siamo sicuri, ci sentiamo a nostro agio, lo conosciamo bene, riusciamo a giocare bene e fuori casa ogni domenica oltre al viaggio, oltre a tutto il tempo che trascorre da quando si esce di casa fino ad arrivare al campo, ci sono un sacco di incognite che si possono incontrare che noi non conosciamo e che ogni domenica dobbiamo affrontare e quindi a volte possono anche un po' influenzare la prestazione. Però secondo me la testa che mettiamo, che abbiamo messo anche domenica scorsa, nonostante la sconfitta, era positiva, l'atteggiamento che abbiamo avuto è stato positivo. A proposito del atteggiamento, domenica appunto col Genoa vi mancherà anche una giocatrice importante dietro che è Mancusa, quindi diciamo che c'è un ulteriore problema in più rispetto a domenica scorsa? Eh sì, adesso dovremo trovare una soluzione, siamo tante quindi possiamo anche intercambiarci e giocheremo sicuramente al massimo anche se ci manca un elemento importante come Manco, come Giulia, però ovviamente lavoreremo anche stasettimana per portare la formazione migliore che possiamo mettere in campo. Poi ovviamente ognuno di noi deve metterci del suo e dobbiamo entrare in campo senza pensare a chi c'è e chi non c'è, dobbiamo entrare in campo e pensare alla partita e a portarla a casa.